...che in periodi di grandi cambiamenti come il resto... Come programmare in tempi di incertezza la centralità delle competenze? E' questo il titolo della diciottesima edizione della Scuola per Imprenditori che prenderà il via lunedì 17 aprile. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Confartigianato Imprese Ancona-Pesero-Urbino, il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche e Live. Con la scuola, hanno sottolineato Sabatini e per Paoli, presidente e segretario dell'Associazione di Categoria, vogliamo dare un'opportunità in più agli imprenditori, arricchendo le loro competenze. Dopo la pandemia, la crisi economica ed energetica, ora si trovano a fare i conti con le difficoltà di reperire mano d'opera e figure professionali adeguate. La gestione delle risorse umane e la capacità di programmare e di organizzare le imprese sono le nuove sfide. La scuola, grazie alla presenza di docenti ed esperti, potrà contribuire ad aiutare gli imprenditori a comprendere i cambiamenti e ad affrontarli. Precisiamo subito che è una scuola che ai soci non costa nulla e quindi questo è il primo numero positivo. È molto importante, saranno sette appuntamenti, uno al mese, escluso il mese di agosto, quindi sono due ore al mese, dalle 6 e mezzo di sera alle 20 e 30 della sera, sempre di lunedì. La scorsa edizione c'è stata un'affluenza record di oltre 100 persone e ci aspettiamo che ci sia la stessa... Quest'anno in presenza? Quest'anno sarà in presenza nel nostro auditorium belvederesi Valdimiro e quindi sarà anche un'occasione per socializzare tra le imprese che è un po' il secondo scopo della nostra scuola per imprenditori, proprio farsi conoscere tra di loro e riconoscersi e poi parlare e comunicare per mettere un po' in comunione anche le difficoltà e anche le soluzioni a volte di alcuni problemi. Il percorso formativo consentirà di avere un confronto con il mondo accademico ed economico e metterà in relazione gli imprenditori creando una rete di rapporti e collaborazioni. Saranno affrontate tematiche relative a nuovi strumenti integrati, risorse umane, credito, bilancio sociale, sostenibilità, programmazione, comunicazione digitale e intelligenza artificiale. In occasione della conferenza stampa sono stati consegnati gli attestati e gli imprenditori che hanno partecipato alla precedente edizione della scuola per imprenditori e al percorso formativo intitolato Preparati per competere. Devo dire che tante volte si ha la presunzione, magari, avendo una ditta, di conoscere tutto, invece in realtà è un corso che comunque è molto interessante, che ti dà tantissimi spunti anche proprio da poter apportare alla propria impresa e quindi mi ha dato tantissimi indicazioni proprio per il controllo dell'impresa, dalle gestioni amministrative e soprattutto amministrative. Mi ha dato visione, mi ha fatto vedere tanti di quegli indici che magari per me erano scontati e non tenevo sotto controllo, mi ha servito molto. Consiglieresti l'esperienza ai tuoi amici, colleghi? Assolutamente sì, anche perché, come dicevano prima, il mondo è sempre in evoluzione e quindi assolutamente consigliata, per stare sul pezzo.